Con questo video vi racconto un gioco. Albert con i suoi due cani Rudy e Dharma vanno in un parco. Quando i cani vedono una fontana iniziano a correre intorno ad essa all'impazzata. Sappiamo che Dharma si muove con una velocità di 3 metri al secondo, Rudy con una velocità di 1,5 metri al secondo. Albert vuole giocare pure lui ed inizia a correre attorno alla fontana con una velocità di 1 metro al secondo. Quello che mi chiedo è dopo quanti giri d'arma riuscirà a doppiare Albert e dopo quanti giri d'arma doppierà per la terza volta Rudy? Qui vi è la soluzione.